Allora Davide, si conclude così una stagione però non senza non aver lottato? No, beh, questo è sempre stato la nostra DNA quest'anno, qua abbiamo fatto sempre grandi battaglie, anche in campionato abbiamo conquistato i due punti fondamentali per la salvezza. Oggi abbiamo dato battaglia ai primi 27 alla grande, in tempo un po' ci siamo bloccati sulla rotazione, sulla classica P1, ma va bene così, siamo felici del percorso fatto. È un'annata lunga, nove mesi lunghi, ma pieni di soddisfazione, siamo contenti e ci rivediamo nel prossimo anno in questi campi. L'obiettivo possiamo dire che è stato raggiunto già molto prima di questi play-off? Sì, l'obiettivo principale era la salvezza che non era scontata per niente, per il livello del campionato, poi questi club sono un appendice che danno la possibilità alle squadre, anche come vado a pieni di giovani, di far giocare un po' tutti, crescere, ed è importante perché i ragazzi ci sono, hanno bisogno di spazio. Bene così.